Ciao, sono Alessandro di AVM Frizz Italia e oggi ti presento un prodotto tanto bello quanto esclusivo, l'Eolo Router. Il router Frizzbox, realizzato esclusivamente per i clienti Eolo, caratterizzato da una colorazione nero lucido che esalta ancora di più il design bello e compatto. Questo prodotto è sviluppato e progettato interamente in Germania, con un occhio attento ad ogni fase della produzione. Per questi motivi Eolo ha deciso di prolungare la garanzia per questo prodotto a vita. Analizzandolo più da vicino troviamo le quattro porte Fast Ethernet, la porta One per il collegamento all'antenna Eolo, una porta USB per collegare stampanti, hard disk o chiavette ed avere sempre i vostri dati a portata di mano. Grazie ad antenne integrate ad alto guadagno, la copertura Wi-Fi dell'Eolo Router è migliore del 50% rispetto alle precedenti soluzioni. Interferenze, scarsa copertura o continue disconnessioni saranno soltanto un lontano ricordo. L'Eolo Router è equipaggiato con il Fritz OS e il sistema operativo di AVM completamente made in Germany e in italiano. Facile da usare, autoinstallante, stabile e sicuro. Sicuro perché ha un firewall integrato che ti protegge da attacchi informatici o intrusioni nella tua rete. Così potrai navigare o effettuare i tuoi pagamenti online in tutta tranquillità. Grazie all'Eolo Router sono diminuite del 90% le chiamate al servizio clienti, per problematiche di disconnessioni, copertura wireless o stabilità. Inoltre anche le sostituzioni si sono ridotte di 19 volte, garantendo un risparmio di CO2 rifiuti non indifferente. Ma non solo, gli utenti esperti potranno effettuare configurazioni avanzate come priorizzazione del traffico, per esempio per il gioco online, analisi avanzata dell'inquinamento wireless, accensione e spegnimento programmabile della rete wireless, configurazione semplice di VPN per smartphone, tablet o PC e tanto altro ancora. Scegli Eolo Router e semplificati la vita. Ciao!